buongiorno a tutti svegliati alessandria siamo qui a spinetta in via genova oggi che giorno è il 23 novembre 2019 come potete vedere qui dalle immagini l'acqua corre adesso qui ci stiamo avvicinando a un tratto abbastanza critico di via genova sì perché ormai abbiamo la consapevolezza che stavo dicendo prima che ormai così esagerando però neanche tanto ci stiamo avvicinando a primi di tipo monsonico cioè lunghi periodi di pioggia e lunghi periodi di siccità adesso per carità non siamo ancora a livello delle zone asiatiche interessate a questo clima però siamo venuti tre settimane fa due settimane fa via spinetta la situazione era i commercianti che si stanno piazzato i sacchi di sabbia all'ingresso dei loro negozi si stanno attrezzando qui di fianco noi sta scorrendo sta scorrendo un piccolo fiumiciatolo non vorremmo adesso anche qui paradossalmente che la nuova nuovo stile di abitazione sia ormai sulle parafitte perché se andiamo avanti così le acque ovviamente invaderanno sempre più spesso le nostre strade le nostre case anche qui sacchi sono tutti pronti di là non capisco probabilmente ecco la casa questa la trunera di lì scorre anche di lì il fiume la trunera che avevamo visto l'altra volta questi fiumi d'acqua ecco possiamo tentare di attraversare di là attenzione molto rischiosa ecco qua questo tentativo di deviare l'acqua qui naturalmente un cortile invaso dall'acqua e non se l'asciugano più riescono una volta e continua a piovere professore c'è niente da fare niente da fare niente da fare la il marciapiede che abbiamo appena abbandonato è completamente il punto più critico è lì all'incrocio adesso andiamo a vedere completamente guarda lì il marciapiede discorre un fiume un piccolo torrente il marciapiede non esiste più eccolo la guardate è l'invaso da queste acque anche qui di fianco noi siamo in via genova adesso qui all'incrocio inizia il pezzo più critico fino dalle scuole sì al passaggio a livello guardate di lì che immagini impressionanti incredibili guardate i cortili vengono difesi come come possibile con delle paratie di legno anche quella salumeria lì siamo a livello di prealluvione altro che andiamo avanti qui il terzo delle ruote sono a bagno anche qui si tenta di bloccare guardate la paratie passarelle per entrare in negozio vedete le passarelle come sulla laguna ricordiamo che siamo a Spinetta Spinetta Mareno Spinetta Mareno via Genova passiamo qua ora e ora pulire la tua famosina metti a guardare così e lo so perché una volta si pulivano i fossi e adesso quelle macchine chiudono tutto finisce tutto lì il lavoro quelle macchine quelle macchine tac tac è passato qua passato oggi domani è asciutto tutto va bene invece una volta c'era l'uomo c'era l'uomo che sfalciava l'ho pulito tutti qua ma adesso ha lavato la merda e ho curato il fosetto ah si sta parlando ma io parlavo anche dei fossi in campagna venga professore andiamo la gente è abbastanza esasperata qui stiamo camminando la gente è esasperata e si rende conto ecco lì professore guardi lì cosa c'è hanno chiuso una strada andiamo a vedere venga attraversiamo stiamo attenti andiamo sulle strisce pedonali ovviamente i pedoni sono ecco con le scarpe gli stivali signora gli stivali gli stivali ecco andiamo di la a vedere questa situazione il tutto è più complicato a causa della pioggia che che qui abbiamo degli afflumenti guardate qui che roba qui c'è un bar praticamente qui il problema è non prendere qualche tombino aperto strada chiusa il problema ci sono i tombini tutti incasati non abbiamo la scarica se lei viene a vedere la mia tortilla io per uscire di casa da luce devo mettere gli stivali ma scusi ma è il tombino non si può vedete vedere se sono aperti non è che ci infiliamo dentro guardi è qui e si non è che ci cadiamo dentro no ma noi intendo col piede e se dai tombini mi faccia vedere mi faccia vedere stiamo a sinistra almeno siamo su dovrebbe arrivare la pompa guardi giù in quel cortile lì che via è questa? via Maruera via Maruera qui c'è un cortile guarda lì è l'acqua della foglia che viene fuori da lì se ti scaricare immagini impressionanti è un pezzo chiuso guarda il cortile invaso dall'acqua garage andiamo avanti guarda lì ecco qui un tombino il problema è non entrarci dentro noi stiamo arriva di qua la pulisco sempre ci spezzo le gambe è stamattina alle 5 che sono qui non la prima volta questa è già la quarta volta e lo so guardi il cortile l'acqua è tutta dentro sotto il corpo anche qua un cortile vai vai poi ne vede un altro peggio ancora mamma mia danni incalcolabili ormai in queste vie si può camminare soltanto avendo gli stivali ormai siamo ad un livello quella signora che abita lì aveva la cantina ha buttato via il frigo anche qua immagini impressionanti guardate che roba vedete guardate le corte tutto allagato tutto allagato sacchi di sabbia agli ingressi guardate sul telefonino li ha messo stamattina noi siamo svegliati alessandria tipo radiogol ho due pompe che azionano l'acqua non su teleciti va a finire anche su teleciti si anche fatelo su teleciti si 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 no perchè gli amministratori non hanno mai fatto niente hai capito? proviamo a entrare vedo perchè è il tombino della fogna lo vede? il livello è quello lì questo è un tombino lo vede? perchè questo fogna metà va in là metà va in qua basta collegarle che quella di là proviamo a entrare ci fanno entrare venga 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 guardi qua anche qui notiamo già un tombino che è il tombino quello generale guardi ho messo la pompa più grossa incredibile qui tutto un altro tombino con l'altra e venga a vedere l'acqua qua guardi guardi incredibile questa è la mia guada sono interpiazzata in questo modo ed è la quinta volta questa è alluvione proprio e sa cosa hanno detto allora i vigili del fuoco non intervengono perchè non è una calamità si l'amago ho telefonato non c'è tutti hanno detto che vedranno uno perchè si interessa solo dei dei quasti quell'altro non c'è adesso vengo a vedere dietro io sono tutta lagata immagino 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 e se continuo e nessuno fa niente e sono le ponte eh lì che scaricano guarda guarda è una situazione drammatica è una situazione drammatica è una situazione drammatica è una situazione drammatica guarda se io cammino vedete si rende conto guardate che roba di quanto c'è ti arriva stia arriva stia arriva stia arriva stia arriva occorre a questo punto professore come suggerimento come suggerimento professore l'esercito a questo punto abbiamo ancora l'esercito non è una calamità ho detto venite a vedere se io non ho una calamità perché non ci sono per loro non ci sono morti il disastro certamente ormai l'esercito noi dobbiamo chiedere che la protezione civile venga rinforzata dall'esercito dice che non fa i tombini della foglia perché non sono mai stati non so come difendere questa situazione va moltiplicata per il numero delle case degli abitanti di spinetta quindi questa è un'esemplificazione abbiamo sentito quindi una residente mi ha fatto vedere la mia casa perché da fuori va bene signora ci chiamano ancora andiamo a vedere un'altra situazione sempre vedete le pompe che scaricano e sono quelli della signora che scaricano se non ci fossero anche queste probabilmente la signora avrebbe il danno sarebbe più in terreno completamente allagato si hanno le pompe sommerse ormai c'è il fai da te un altro cortile finetta quindi è sommersa dal dall'acqua il problema è che glielo spiega bene il signore per come lui spiegagli un po' il problema della della fogna ecco qua la fogna da questa perché sono due questa va in là e quella lì va in là basterebbe collegarla che da là vuoi bere e qui invece c'è questo lavoro perché questa qua non ha il problema del rio la vaccina che è ricordita capito questo fare qui paghiamo nostre spese di tutti i vicinali perché questa tira non ci danno il permesso questa tira questa tira ma questa qua che non funziona perché tutti i combini che vanno a finire qua non funziona nessuno perché non funziona perché non funziona la nostra spese lo facciamo vedi che tira questa non ci danno il permesso di chiudere la strada vedi come tira questa tira questo si da un'altra volta hanno già pompato vedi che è asciutto qua di qua è asciutto l'altra volta l'hanno già pompato da quella lì ma adesso non cambiamo quella lì è cessa quella lì è cessa quella lì è cessa che prende l'acqua della via cessa che non va a finire e quindi basterebbe farlo un racconto basta collegarle ma sono uguali c'è mezzo metro perché come beve questa devi passare qua li porti le cuoche ma tu non capisci niente devono chiamare i giove ma se chiamo chi chi vuole basta collegarmi basta che spaccino e che si rendano tonto e si rendano tonto devi solo togliere l'acqua in casa la gente intanto che non spaccano ma vedono anche lì vai lì non si può sapere devo alzare appunto se questo beve perché che non si può il livello quello è più basso no perché lui dice che è più basso di là va beh però ci sarà un sistema ma per collegare si basta mettere in quota vanno a fare delle opere architettoniche ingegneristiche per collegare le nostre metri basta mettere un tubo da lì arrivo via da sotto è importante ha detto che sono a due livelli diversi ma niente però bisogna vedere bisogna vedere quanto è il livello però se la vengono ha detto che non hanno i soldi e vengono quando hanno il tempo questa è stata la risposta che gli animi si stanno un po' accendendo ovviamente questa situazione non agevola la risoluzione dei problemi qui c'è un tombino anche qua professore anche qua un tombino completamente otturato arrivederci signora grazie no andiamo dritto usciamo di qua dalla via usciamo anche noi di là era asciutto abbiamo documentato la situazione qui a Spinetta in una via via Maruera e adesso andiamo verso il passaggio a livello le scuole medie vediamo un po' la situazione è veramente grave avete anche colto l'esasperazione degli abitanti che a loro avviso non è stato fatto e non si sta facendo ancora niente è sempre un problema di soldi professore sempre un problema soldi soldi buongiorno siamo in diretta eh siamo in diretta siamo in diretta stiamo riprendendo tutta la situazione abbiamo visto la terza volta terza volta si sono comperate le pompe pompe sommesse proseguiamo noi ciao saluta Nicoletto buona giornata guarda qua ancora uno scorso di questo cortile impressionante andiamo andiamo queste con ritorniamo pian pianino piccole e penose bighe fatte con dei mattoncini per deviare questi rivoli d'acqua verso i tombini che a quanto pare una quota di tombini non regge più e quindi butta fuori l'acqua soprattutto questi tombini che i signori dicevano che sono anche come dire rigurgitati dalla rio Lovassina ecco qua un tombino di nuovo il problema è non finirci dentro e non finirci stiamo a riva di qua perché se è aperto è quello il problema si vengono poi a trovare all'ospedale ecco il mio problema è non mettere le mani i piedi dentro no no stiamo di qua stiamo sulla destra che è più asciutto qui praticamente sembra di essere sul delta del Mekong io vorrei anche attraversare stia attento lì è lì il buco si è qua il tombino vedi qua ce n'è un altro no no non c'è niente non sento niente andiamo avanti qui era più basso andiamo ci siamo qui c'è un bar che per fortuna loro è rialzato qui l'acqua scorre l'acqua scorre man mano che proseguiamo da via Genova la situazione diventa sempre più critica noi abbiamo uno spettacolo dove la parte asciutta è solo la parte centrale della via le laterali sono due due torrentelle due corsi d'acqua due corsi d'acqua sì limacciosi portano via tutto quello che trovano riempiono vanno perché l'acqua l'acqua riempie l'acqua occupa spazi quindi cortili scantinati cantine giardini tombini portoni negozi anche qua un negozio non un negozio un'officina qualcosa del genere guardate i sacchi sacchi di sabbia per proteggere l'ingresso attenzione a eventuali tombini aperti no no venga venga non c'è niente ecco qua qui vedete anche con un'anta questa è un'anta di un armadio quindi questo è un barbiere un negozio la gente diciamo con mezzi di fortuna cerca di ripararsi ecco qua perché abbiamo sentito dire che la protezione civile ha terminato i sacchi e a questo punto ecco poi polisterolo una cosa che non dovrebbe esistere almeno perlomeno questi piccoli dispositivi mobili e utili tipo i sacchi di sabbia dovrebbero essere a disposizione a centinaia di migliaia perché queste sono situazioni che ormai non sono più eccezionali ma stanno diventando purtroppo la norma spinetta ma sappiamo anche eh le località intorno litta sappiamo lobby sono tutte invase da acqua e guardi la piazza professore incredibile la piazza adesso noi tenteremo un attraversamento in una zona più tranquilla forse lì dove c'è la macchina della protezione civile tentiamo l'attraversamento vada un po' più avanti venga venga c'è un signore che sta facendo dei rilievi eccoci qua proviamo l'attraversamento si si sempre nella nella cautela e non finire dentro un tombino aperto no no ce la facciamo grazie no no avevo paura del tombino aperto grazie grazie mille arrivederci eccoci qua siamo nella piazza delle scuole questa è la situazione strada transennata acqua che corre immagini avete visto però la gentilezza dei volontari della protezione civile che ci hanno visto in difficoltà e hanno subito chiesto se era necessario il loro aiuto quindi meno male che esiste questa realtà che però dovrebbe essere un po' più attrezzata magari non solo fatto di uomini di buona volontà ma anche di mezzi in questo caso abbiamo parlato dei sacchi che mancano oserei dire anche pompe e situazioni magari più tecniche che possono alleviare la situazione che stanno soffrendo tutti gli spinettesi in particolare quelli che proprio vivono a ridosso delle di queste situazioni ecco qui è il rio lovassina che probabilmente sta pieno e non riceve più ecco non riceve più e questi sono naturalmente non ricevendo parte della della zona dell'allagamento è dovuto a questo fatto qua non riceve e quindi butta fuori tutta quest'acqua qua non è dovuta tutto sommato a un allagamento indotto dalla pioggia eccetera ma già il fiume cioè il rio che non riceve più quindi bisogna lavorare sul rio non so in che modo ma fare far sì che questo possa decuplicare la capacità di ricevere non sapere pulire i fossi le solite cose che si dicono ma anche qualcosa di più sostanzioso raddoppiare ad esempio la portata perché è inutile che pensare che per 9 mesi all'anno 10 mesi è secco eccetera eccetera bisogna pensare anche ai 2-3 mesi poi successivi che succedono cose di questo genere noi due settimane fa eravamo qua la situazione era la stessa e quindi ecco per esempio anche quel cortile lì davanti ormai quella situazione lì è compromessa perché i ragazzi sono a casa oggi è sabato oggi ecco per fortuna è sabato l'altra volta non era sabato la scuola era chiusa comunque a questo punto siccome lo spettacolo è sempre quello di là potremo andare verso la stazione ma credo che non cambi proprio niente abbiamo un operatore che sta facendo delle riprese delle riprese noi chiediamo di che immittente è si si passiamo di qua e la protezione civile è sempre presente bravi sono contento di voi grazie a voi grazie a te che immittente siete la rai rai 1 2 3 beh poi lo distribuisce esatto va bene va bene arrivederci registra tutto no noi stiamo facendo abbiamo fatto il percorso tutti stiamo cittadini abbiamo un blog abbiamo fatto il percorso allora a questo punto stiamo solo diventando un fatto di cronaca che riempirà qualche minuto dei vari telegiornali però il problema è che non si può liquidare così una situazione con un evento di cronaca un evento imprevisto ormai gli allarmi erano stati lanciati l'ARPA aveva mandato in rete un bollettino nel quale si preannunciavano queste ore e ore di pioggia i millimetri 30 cm d'acqua o qualcosa del genere quindi insomma una quantità che doveva allertare tutti sempre il solito discorso dei soldi però a questo punto bisogna fare in modo che i soldi entrino e l'Italia li possa spendere in deficit per le calamità naturali che colpiscono la nostra nazione noi non possiamo continuamente far pagare ai cittadini questi disagi per un problema di bilanci e di fiscal compact noi dobbiamo assolutamente svincolarci da tutte queste regole che ci stanno strangolando ecco a questo punto io da Spinetta Marengo da questa situazione che mi auguro almeno per quest'anno di non vedere più vi saluto caramente è una vergogna è una vergogna ma la piazza è tutta piena d'acqua di nuovo per due gocce d'acqua due settimane fa eravamo ancora qui per la stessa ma guarda qui però tutte le fogne chiuse ma perché questa è delle rio Lovassina che non riceve più va bene arrivederci terminiamo il video al prossimo filmato buona giornata a tutti arrivederci